Due weekend, sabato 9 e domenica 10, sabato 16 e domenica 17 settembre, dedicati ai sapori, alla cultura, alla musica e alle tradizioni di alcuni dei paesi più affascinanti al mondo. Torna a Napoli incontra il mondo, il festival che coniuga artigianato, gastronomia e intrattenimento nel complesso fieristico della Mostra d'Oltremare. Una ricca programmazione artistica animerà i 12 palchi della manifestazione che proiettano i visitatori in un viaggio virtuale alla scoperta di realtà lontane, non soltanto l'Oriente con bazar, cerimonie e prodotti tipici, ma danze, atmosfere e piatti caratteristici dei luoghi più diversi. Ci saranno tantissimi palchi, sono 12, 200 spettacoli, anzi forse anche qualcosina in più, tantissimi stand sia gastronomici perché chiaramente anche tanta offerta legata alla gastronomia proveniente da tutti i paesi del mondo. All'interno del Festival di Napoli incontra il mondo immancabile, un format che da tanti anni noi promuoviamo, ovvero quello del Festival dell'Oriente. Ci sarà il Festival Country, quello irlandese, spagnolo, americano, argentino, le specialità della Bavaria, numerosi ristoranti e street food ed uno spazio interamente dedicato ai più piccoli. Sarà sicuramente un modo per trascorrere una giornata anche per persone di tutte le età, perché c'è un'offerta variegata anche per i bambini che potrà quindi in questi prossimi, questo weekend e il successivo, essere parte dell'offerta turistica che c'è nella nostra città. Ci saranno tantissime aree tematiche, aree culturali e tantissimi workshop, corsi, attività gratuite che il pubblico visitatore potrà fare previa a prenotazione che si può fare online oppure sul posto. Le date sono 9 e 10 settembre, sabato 9 e domenica 10 e poi 16 e 17, sempre sabato e domenica a partire dalle 10 fino alle 23.